Se volete acquistare i crediti passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con un ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVI SPOT otterrete 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miscritti più di tutti. Bentornati su GIOVI HD SPOT. Allora, da tanto che non facevo un video, però ora ho deciso di riniziare con i pink slips, con i wager match. Farò qualche squad builder e che altro potrei fare? Compreventa, credo di non farne più. Che altro? Ebbene, questi, i pink slips, wager match, squad builder e basta, error to glory. Purtroppo sto avendo poco tempo perché sto facendo anche altre cose all'infuori di YouTube e dunque il tempo inizia un po' a scarseggiare. Naturalmente la mia vita non è tutta su YouTube, ma ci sono anche altre situazioni all'infuori di YouTube. E quindi sto avendo poco tempo. Comunque, se volete fare pink slips, wager match, vi invito a mettere mi piace sulla pagina Facebook che troverete al di sotto di ogni video. Sta scritto pagina Facebook, ci cliccate, mette mi piace e potete andare a vedere un po' la situazione. Mettete segui così riceverete ogni mia notifica nel caso in cui pubblicassi un post del pink slips e quant'altro. Oggi è 23 ottobre ed oggi uscirà il post per il pink slips di un giocatore. Non l'ho ancora scelto. Però credo di fare un giocatore sui 15-20k. Naturalmente, come detto su Facebook, non posso fare giocatori costosissimi perché a me nessuno regala milioni e milioni di credit. Dunque, detto ciò, questo diciamo era un mini video per spiegarvi un po' cosa farò su questo canale, sul mio canale, sul nostro canale, sul canale che è pubblico e quindi di tutti. Spero che l'idea dei pink slips wager match vi piaccia. Volevo iniziare una serie anche sui wager match, un wager to Lewandowski, ma lo chiamerò in maniera diversa. E dunque, se volete fare il wager match, contattatemi sulla pagina Facebook in privato oppure mettete un post e vi risponderò. Per il pink slips farò io il post del pink slips con le regole. E dunque, che dire, mettete mi piace alla pagina Facebook, iscrivetevi al canale, a questo canale se non siete già iscritti, fate iscrivere altre persone in modo tale da aumentare la visibilità del canale, mettete mi piace ai video, seguitemi e supportate. E dunque, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao a tutti!